Sciogliete gli ormeggi, puntate il dito sul mappamondo e cercate una meta. Trovata? Via! MTS V42 è la imbarcazione da diporto costruita da Marine Technology Inc., il cantiere del pluricampione mondiale di motonautica Randy Shim. Sv42 è lunga quasi 13 metri e larga 3 metri e mezzo e unisce le migliori tecnologie e una speciale carena brevettata con tanti utili accorgimenti per una divertente crociera all'insegna della velocità. È infatti costruita come le barche da corsa da cui deriva. Scafo e coperta sono realizzati con fibre di vetro di tipo E, laminate con resina epossidica. La più difficile da lavorare, ma anche la migliore. Questa viene iniettata per infusione sottovuoto e alcune parti sono poi rinforzate con Kevlar, mentre l'hardtop, per non alzare il baricentro, è fatto di fibra di carbonio. La postazione di pilotaggio è studiata da veri professionisti per essere alla guida in totale comfort e con il perfetto controllo della barca. Volante estensibile, schermi incassati per essere leggibili anche sotto il sole, parabrezza altissimo, deflettori laterali per non essere disturbati dal vento, sedili comodissimi e pedana su più livelli per trovare sempre la posizione perfetta. MTI SV42 è motorizzata da 4 verado da 350 cavalli, per un totale di 1.400 cavalli. È una barca velocissima, con straordinaria efficienza ed eccellente tenuta di rotta, anche ai 50 nodi di velocità massima che si raggiungono.